5 gennaio 2018, un altro fantastico presente dal quale imparare qualcosa lascia andare il giudizio delle persone e spogliati dalla paura di sbagliare sbagliando ti regali un'occasione per imparare questa sì che bella, i nonni dicevano sempre sbagliando si impara e avevano ragione, siamo esseri umani, nessuno è perfetto, anzi ricordate che sbaglia chi fa qualcosa e lo sbaglio solitamente è non voluto o almeno si spera ad ogni modo da quell'errore noi possiamo trarre un insegnamento e con quell'insegnamento noi possiamo crescere sicuramente potremo sbagliare altre volte, modi diversi e ogni volta impareremo delle piccole lezioni non preoccupatevi di quello che pensa la gente di voi l'importante è che voi abbiate capito qualcosa dal vostro errore anche perché molto spesso gli altri parlano perché non hanno niente da dire quindi cominciano a sparlare di voi, di quello che avete fatto pazienza, passateci sopra credetemi davvero non è importante ciò che pensano gli altri di voi ma ciò che voi pensate di voi stessi e dovete esserne orgogliosi, andare fieri perché voi siete forti e soprattutto sbagliando avete imparato qualcosa che gli altri ancora non hanno capito every day is a surprise, only goodbyes dei sito nessun consiglio musicale oggi semplicemente indossate qualcosa di rosso siate vistosi, siate forti e non abbiate paura del giudizio degli altri grazie a tutti